Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika, come avete capito? Altro video in collaborazione con Chica Boom, che ringrazio tantissimo Ci hanno mandato le Letra Box Transforming Secret Agent Qualcuno dirà che schifo di inglese che hai, lo so, fa niente, portate pazienza Combo Big Robot Mock, l'unione fa la forza Bene, andiamo ad aprire la scatola che si presenta così, la troverete così in edicola Cioè non proprio così ma montata, che io adesso vado a fare Che almeno, ok, si trova la scatola così Voi scegliete la vostra bustina in edicola perché sono prodotti che trovate in edicola Usate il casino, aspettate adesso che sistemo qua Allora, queste costano, qua, 2,99€ l'una Sono della Chica Boom e la trovate in edicola Le bustine si presentano così Puzzine, dai che bello, mi diverto ad aprire queste Non c'è mia figlia, blink bag Buste in edicola, facciamo così perché non voglio fare figure Lei lo sa bene la pronuncia di quello Però è bello anche dirlo perché sono quelle le buste in edicola Poster, mega poster che vi faccio vedere così intanto Sposto su Bordi speciali, cambiano colore alla luce del sole Wow, bene, bello Poi, cosa dirvi, andiamo ad aprirle C'è dentro una card Collection solar E sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Che sono tutti Ascoltate che vi faccio vedere bene Disegnati qua, vedete quello che potete trovare Per poi appunto andare a costruire Il robot gigante Va bene, adesso togliamo il poster Andiamo a togliere tutte le bustine dalla scatola Prima di tutto Me ne mettiamo tutte qua Guardate che meraviglia Bello tutto qua così Wow Eccoci qua E andiamo pian piano Una alla volta Le apriamo Allora E voilà Così Apertura sempre molto Semplificata Che la nicca è un po' maldestra Spaccato Dentro, vabbè comunque Come vi ho detto prima C'è la Cart La card E abbiamo trovato Quantum E c'è su quello appunto Che trovate nella bustina Poi c'è appunto La checklist dentro E come va montato dopo il robot E andiamo a vedere questo Che è appunto la Q Si chiama Quantum Ed è la Q Si apre E si diventa Un piccolo robottino Vedete che ha la testina Con gli occhietti E dai che pugge Chi è Guardate ne Perché dopo sono Un po' engranate Ma però dopo vi monto Tutto con calma E vi faccio vedere dopo Questi comunque Sono i piedini E intanto lo mettiamo così A mio marito Che aiutante Che ha aperto Un'altra busta E questa è la K di Karat Vedete che proprio C'è proprio la sua card E questo Anche questo qua Si apre E' sempre un po' Provare Ma è lì bello Perché io mi diverto Anche Ah vedete così Certo Nica Le braccia Le gambette Ah diventano gambettine Così E poi qua dovrebbe Uscire A regola La testolina Che la Nica Non riesce a fare uscire Perché deve tirare su Ma le unghie Non ce le ha più Eccolo qua Eccola qua gli occhietti Vedete Testolina Gambettine Tarata Tarata Abbiamo Aperto Karat Adesso Abbiamo la U N di Nebula Nebula Nebulosa Roba di Bello bello Mi piace Nome Bellissimo Anche qua Dobbiamo Alzare gli occhietti Poi vedete che poi Si Aprono le sue gambettine Dai che bello Anche questo qua Fatto così Vedete E sono cose Carine Dai Fatte bene Allora Iguala Apri una anch'io È il divertimento Di aprire le buste Allora qua Abbiamo trovato La M Come Monica Però io sono Nica Ormai Mi da Wow Vediamo Aspettate Ha le gambettine Poi ha Tirate su così Le braccette Così E abbiamo costruito Miba Mida Scusate Poi Jason La J Jason che bello J Wow Aspettate Qua c'è un pezzo in più In questo Si poi ci capiremo Quando monteremo Il robot Perché comunque Penso che faccia parte Per montare appunto Il robot finale E questo C'ha la testolina Così La J Si deve girare Ah ok Si mette in piedi E dopo Vediamo Quando montiamo Alla fine Tutto il robot Questo è Cancelletto Giusto Hashtag Cancelletto Sono ancora Vecchia Io retro Ragazzi Però dai che carino Col fucsel nero Bello Sta troppo bene Questo abbinamento Di colori Allora Braccette così E poi Giriamo Le sue gambette E Alziamo La testolina Dove escono gli occhietti Dai carino Poi la P Di papà Piro Belli colori Sì Anche questo qua L'azzurro Col blu Li hanno binati bene Poi guardate Quell'oro qua Col fucsia Qua bellissimo Il nero Il fucsia Poi che dire Altro Binamento Più di così Allora vediamo La P Come si apre Così gli occhietti Poi le sue braccette Così E poi andremo A montare Il nostro Robo gigante La L Dove ha dentro Altri due pezzettini Piccolini Che poi andremo A capirci dopo L Che è questa qua Anche questa Si apre Così gli occhietti Qua le sue gambine Le Braccia Di lato così E l'abbiamo aperta Poi O Di Orion Wow Anche questa Ci avrà la sua Faccetta Si Si no Per quello Sono anche Da montare così Per giocarci Come piccoli Robottini Molto semplice Perciò anche i bambini Non fanno fatica Ad aprirli A montarli Fare Eccolo qua Orion E Buona Si Bene Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dovrebbero esserci tutti Adesso con calma Montiamo Il bestione Guerriero robot E ci vediamo Tra un Pochino Eccoci tornati Si ce l'abbiamo fatta Dai Non è stato complicato È per la nicca Dai Aiuto di mio marito E guardate Abbiamo montato insieme Tutte le letterine Vedete qua c'è la K Quelle che si possono intravedere Qui c'è la M Che fanno parte delle gambe La N La P Poi ci sono quelle braccia Che era una Era la J E una Era la L Che vanno qua così Poi c'è questo pezzetto Che c'era in più Che vi ricordate Che abbiamo detto Che c'erano I due quadratini piccoli In più insieme Non mi ricordo Se è la L O la J Comunque La L e la J Trovate questo qua lungo E questi due piccolini Che sono i due pugni L'arma Poi L'hashtag Dietro alla schiena Che poi potete aprirlo Escono gli occhi Insomma Dai carino Per i bambini Un bel gioco Dai Si divertono a montarlo A fare Insomma Fateli perdere un po' di tempo Così giocano E niente Io ringrazio Chica Boom Vi ricordo che le trovate In edicola 2,99€ A Busta E niente Vi saluto E vi mando un bacione Al prossimo video Ciao Ciao